Devo rompere il ghiaccio. Che cosa può fare una professoressa per rompere il ghiaccio se non un'interrogazione? Avete paura? No, vabbè, per questa volta lascio correre. Però voglio rompere il ghiaccio facendo un mini sondaggio per conoscervi e per conoscere me. Chi ama la matematica? Alzi la mano. Eh, sono quasi a casa. Chi andava bene in matematica ai tempi? Eh, un po' meno. Chi pensa che il talento matematico sia innato? Ah, va bene, ne terrò presente. Adesso conosciuto voi mi presento. Io penso che la matematica sia il fondamento di una società giusta, equa e democratica. Per questo motivo ho riformulato questa bellissima frase del premio Nobel di Malala e l'ho riformulata così. Un bambino, una bambina, un insegnante, un libro, una penna e la matematica possono cambiare il mondo. Chi è d'accordo con me di aggiungere la matematica? Oh mamma, diminuiscono, bene, eh sì, diminuiscono. Mi capita spesso di vedere questa cosa perché? Perché a ognuno di voi sarà venuto in mente, oddio, cosa c'entra la matematica con la giustizia. A me veniva il mal di pancia quando avevo il compito di matematica, non dovevo la lotta per prepararmi. Bene, io ho scelto invece di studiare matematica e di fare l'insegnante di matematica perché per me era fondamentale dare gli strumenti critici e culturali agli studenti, agli studentesse per cambiare questo mondo, per scambiarlo in meglio. E la matematica risulta essere fondamentale. Quello che voglio fare con voi oggi è farvi capire, portarvi in questo mio percorso, quindi farvi vedere che collegamento c'è tra matematica, giustizia ed equità. Ho bisogno però che siate con me cercando di andare oltre l'orizzonte e capire che c'è bisogno di una visione diversa della matematica e quindi di un modello diverso della matematica. Lo farò o perlomeno cercherò di farlo seguendo un ragionamento di tipo matematico. Cosa fa per prima cosa la matematica? Fa un'analisi della situazione e l'analisi della situazione qual è? Andiamo a vedere che cos'è la matematica. Non lo voglio fare con le mie parole, sarebbe troppo semplice e potreste dirmi non è così. Lo faccio con alcune frasi scritte da mie studentesse i miei ex studenti quando hanno finito il liceo e quindi possiamo vedere che cosa. Chiara, che oggi fa l'ultimo anno di medicina, mi scrisse questo. Grazie per avermi fatto vedere la matematica non solo come un insieme di formule ma come un modo di affrontare la vita, semplificandola grazie al ragionamento e alla fantasia. La quinta I, quella che i miei colleghi dicevano una classe di disperati, sbagliando perché persone che vedrete in grado di scrivere questo non mancano di speranza, anzi ne hanno molta, è questa. Grazie per averci regalato la libertà e per averci insegnato a ragionare e a vivere. L'ultima è Bianca, Bianca fa l'ultimo anno di fisica e mi ha scritto questo. Grazie per avermi dato occhi per cercare nuove terre. E a questo punto io, quando mi sono trovata a queste prese, ho detto io con le mie ore di matematica, i miei integrali, le mie cose, ho fatto questo? Bene, allora loro mi hanno indicato la strada di andare oltre, ancora oltre e pensare di cambiare questo metodo di insegnamento. Ma la matematica, perché? La matematica è, come hanno detto i miei studenti e le mie studentesse, libertà e forza liberante. Cos'hanno scritto loro? E' questo, è uno strumento potente che ci permette di essere quello che noi vogliamo essere. Oltre stereotipi e pregiudizi, guardate, questo loro hanno scritto. Vivere, la matematica è vita, è un modo di semplificare la vita. Ma perché? Lo è. Chi ce lo dice? Ce lo dice Daniel Kahneman. Daniel Kahneman è uno psicologo, premio Nobel nel 2002 di economia. Lui si è occupato di teoria delle decisioni. Se voi ci pensate, in ogni momento noi decidiamo. Una statistica ci dice che in un giorno noi decidiamo 35.000 volte. E siamo sicuri che quelle decisioni siano solo nostre o non siano condizionate. Voi oggi avete deciso di venire qui. Se non foste venuti qui, probabilmente non sareste quelli che sarete quando uscirete da qui. Quindi questo è fondamentale. Ma queste decisioni come le prendiamo? La maggior parte delle decisioni, ci dice Daniel Kahneman, sono prese in base a quello che lui definisce Sistema 1, che è un sistema veloce, agisce velocemente, ma è stereotipato e si basa sulle, soprattutto sulle emozioni, sui ricordi. Quello che si dice la pancia, questo. Ma la decisione così, siamo sicuri che le strategie che noi prendiamo e le decisioni che prendiamo con questo Sistema 1 non siano le nostre e non siano frutto di stereotipi. Vi faccio vedere uno stereotipo semplicissimo. Se voi incontrate un uomo, dico un uomo perché con una donna sarebbe ancora elevato al massimo e avremmo una questione di genere che non voglio mettere, gli chiedete a quest'uomo che lavoro fai? e lui vi risponde che faccio l'intellettuale. Voi che cosa pensate che faccia? La maggior parte delle persone dice filosofo, uno scrittore, i miei studenti dicono niente, però scherzi a parte, lasciamo questo. Lui invece risponde sono un matematico e lavoro al CERN di Ginevra. Bene, eppure nessuno mai risponde questo. Perché? Perché c'è lo stereotipo che i matematici, gli scienziati e così via, siano semplicemente dei tecnici e non facciano un lavoro di tipo intellettuale. Allora Daniel Kahneman ci dice che se vogliamo decidere in modo consapevole, si deve attivare quello che lui chiama sistema 2, che è un sistema, come lui dice, educato ed educabile, razionale, logico, ma lento. E quindi se noi vogliamo che le nostre decisioni siano solo nostre, dobbiamo attivare questo secondo sistema, allenarlo, e farlo diventare in grado di controllare se le soluzioni prese dal sistema 1 siano corrette. Bene, questo sistema 2 non è altro che, per me, il pensiero matematico. Cioè davanti a un problema, fare l'analisi dei dati, capire quali sono quelli fondamentali e quali sono quelli accessori, impostare una strategia, verificarla, se si sbaglia reimpostarla e arrivare diritti all'obiettivo. Questo è il pensiero matematico e questo ci regala la libertà che hanno detto i miei studenti. Quindi deve diventare veloce. Bene, ma mi dite che c'entra l'orella la giustizia? E allora andiamo a vedere che cos'è la giustizia. Consideriamo Ulpiano. Ulpiano è uno dei più grandi giuristi romani, se non il più grande giurista romano. e lui ci dice che la giustizia è la costante e perenne volontà di dare a ciascuno ciò che gli spetta di diritto. Sen, filosofo ed economista indiano che si occupa dei diritti civili, che cosa ci dice? Il concetto di disuguaglianza non consiste solo nella disparità di rettito, ma soprattutto nella disuguaglianza di opportunità, di possibilità, di scelta, di libertà individuali. È fondamentale per ogni individuo avere la libertà di decidere come concepire se stessi. Quindi se uno Stato deve dare a ciascuno e ciascuna la libertà di diventare quello che si vuole essere e le stesse opportunità, vuol dire che un metodo matematico deve portare la competenza matematica a tutti e tutte. Ecco che allora un modello di insegnamento della matematica si deve fondare prima di tutto su quello, scusatemi sempre il gergo matematico, su quello che è una sioma fondamentale, non uno, non una di meno, nella matematica e nella vita. Perché se anche lascio fuori una sola persona, dimentico una persona e quindi lo Stato risulta essere uno Stato non giusto e non equo. Ma allora mi direte come fare Lorella? Qual è la seconda cosa? Dobbiamo andare, ricordiamoci sempre quello che abbiamo detto all'inizio, oltre l'orizzonte, pensare qualcosa anche che non c'è. Dobbiamo cambiare la figura dell'insegnante, dell'insegnare matematica. Quindi far che cosa? Far un'altra cosa e secondo assioma la matematica è per tutti e tutte. Quindi non esistono, per questo vi ho fatto alzare le mani, non esistono persone non dotate. Non esistono solo persone non allenate o persone condizionate dagli stereotipi. Chi ce lo dice? Ce lo dice Carol Dweck. Carol Dweck è una psicologa cognitiva di Stanford, il riferimento mondiale della psicologia cognitiva e sociale. Lei ci dice che sono solo le condizioni familiari e di scolastiche che in qualche modo condizionano lo sviluppo del talento. Quindi che cosa bisogna fare? L'insegnante ce lo dice sempre lei ed ha un consiglio a genitori e insegnanti che è questo. Fornite sempre situazioni sfidanti ai vostri figli, figlie, studenti o studentesse, fate sì che si applichino e premiate l'impegno e non la performance perché è solo in situazioni sfidanti che si sviluppa questo modo di procedere perché se la matematica è forma di pensiero, è un modo di affrontare la vita, io devo allenare il pensiero matematico come in palestra. Quindi devo far lavorare i miei muscoli, devo sviluppare la capacità di intuire, immaginare, progettare, dedurre e controllare, per poi misurare e quantificare i fenomeni e fatti della realtà. Questa è la cosa importante, quindi situazioni sfidanti perché comunque l'errore non è un limite ma è un'opportunità, un'opportunità di riflessione e di crescita. Quindi voi avete visto che matematica, giustizia ed equità vanno di pari passo. Ma allora resta un'ultima sfida che vorrei riuscire a combattere con voi, che è questa. L'Italia e molti paesi sono agli ultimi posti dell'analfabetismo funzionale per quanto riguarda la matematica. Quindi la matematica, se il nostro è uno stato giusto ed equo, deve entrare in tutte le case, non solo nei ragazzi e nelle ragazze, ma in tutti noi, in tutti gli adulti. E questa è l'ultima nostra sfida, ed è quella di far arrivare la matematica ovunque. Bene, forse qualcuno starà pensando che questa è utopia, non succederà mai, e da matematica a quale sono, dico che basta solo trovare la strategia giusta. Perché, come diceva il grande Adriano Olivetti, il termine utopia è la mia maniera più comoda, per liquidare quello che non si ha voglia, capacità o coraggio di fare. Un sogno sembra un sogno fino a quando non si comincia da qualche parte. Solo allora diventa un proposito, cioè qualcosa di infinitamente più grande. E oggi il sogno di Lorella non può essere realizzato, se non grazie anche a voi. E quindi sogniamo insieme. Grazie. Grazie.